Cipari schiera in campo Con il numero 1 Gigi Frattani Con il numero 4 Filippo Costa Con il numero 6 il capitano Valerio Di Cesare Con il numero 7 Mirko Altenucci Con il numero 8 Zaccaria Arlili Con il numero 11 Samuele Neglia Con il numero 13 Alessio Sampione Con il numero 18 Thomas Kupish Con il numero 27 Giovanni Terrani Con il numero 29 Manuel Scamone A disposizione Marpella, Berrotta, Esposito, Siveri, Floriano, Bonzoni, Corsinelli, Dursi, Pedrari, Cassone, Berra, allenatori Giovanni Corracchini Arbitano il signor Matteo Mercenaro di Genova Primo esistente